Buongiorno a tutti ragazzi, siamo io, il figlio di Enzo Salvi, nel mio cugino Mirko a protestare con il va 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 a tutte le persone che hanno rosicato, che hanno visto in meno di tre mesi un milione e diecimila visionizzazioni e diecimila condivisioni su Facebook, però l'hanno conto perché ci sono stati commenti poco adeguati per i politici, anche se a parere di Manuel Salvi sarei io, se li meritano tutti, uno, due, tre, va va va